Condizioni di stabilità atmosferica interesseranno la regione nei prossimi giorni. Un anticiclone presente sull'Europa centro-meridionale garantirà stabilità atmosferica. Nella giornata di sabato probabilmente avremo al mattino un po' di variabilità dovuta al passaggio di un debole fronte, ma in giornata prevaranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Le temperature massime in pianura intorno ai 25 gradi, intorno ai 23-24 gradi sulla costa. Per quanto riguarda domenica, bel tempo con cielo in prevalenza sereno, saranno possibili delle nubi basse a fondo valle in montagna, soprattutto nelle zone più interne, ma in giornata sole dappertutto, vento a regime di brezza sulla costa e temperature massime probabilmente in lieve aumento, intorno ai 26 gradi, 27 forse anche sulla pianura. Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana, proseguirà il bel tempo, sempre con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di borino sulla costa nelle ore notturne al mattino, ma tutto sommato un bel fine settembre. Buon fine settimana a tutti!